È davvero possibile guadagnare con l'email marketing? Ovviamente sì, quindi scopri come guadagnare di più con il tuo hotel utilizzando le tecniche di upsell e crosssell tramite l'email marketing. Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato all'email marketing. Come vi avevo promesso in un video passato avremmo affrontato questo argomento dell'upsell e del crosssell sfruttato tramite il direct email marketing, una tecnica davvero potentissima che va a prendere tutte quelle email che sono già in nostro possesso e le andremo poi a sfruttare tramite la nostra strategia. Ovviamente prima di iniziare, prima di entrare nel vivo di questo video iscriviti al canale e attiva le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Bene, come vi dicevo già in un altro video abbiamo parlato di email marketing e di come farlo. Vi ho parlato delle cose più importanti da tenere in considerazione e da non sottovalutare, però c'è un aspetto davvero importante che devo riprendere perché altrimenti fare upsell e crosssell diventa difficile. È importante conoscere il nostro cliente, sapere chi c'è dall'altra parte. Noi normalmente per quanto riguarda l'email marketing dobbiamo sempre fare una profilazione, ma dobbiamo sapere dall'altra parte chi è il nostro cliente tipo, quindi quali sono i suoi bisogni, le sue esigenze. Se voi andate a analizzare chi sono i vostri clienti o andate a parlare con le vostre data booking o comunque con il ricevimento, vi renderete conto che ci sono alcuni clienti che fanno sempre le stesse domande, vi chiedono sempre le stesse cose o comunque vogliono sempre gli stessi servizi perché ognuno di noi ha una certa tipologia di clientela. Tutte queste informazioni sono per noi oro, così come sono le email, che combinate e messe insieme ci consentono di fare upsell e crosssell. Ma che cosa sono upsell e crosssell? Quindi parliamo dell'upsell, vi faccio un esempio pratico così da farvi comprendere. Mettiamo che una persona venga da voi e voglia prenotare una camera matrimoniale. Voi riuscite a venderle una camera superior. Bene, le avete venduto qualcosa che lui voleva ma di categoria superiore. Questo è un upsell. Se invece fate uno crosssell significa che una persona è venuta da voi che voleva prendere una camera matrimoniale standard, ad esempio, come l'esempio di prima, ma oltre a vendergli la camera standard, voi che cosa fate? Li vendete la spa, il centro benessere, li vendete la cena al ristorante oppure l'esperienza in città e così via. Ecco, questo è fare crosssell. Voi come lo potete fare senza che il cliente non sia ancora venuto da voi, bene, lo potete fare sfruttando l'email marketing. Quindi nel momento in cui la persona ha prenotato, voi l'ha inserita in una determinata lista che è di pre-stay e cosa significa? Che voi inserite l'email in questa lista e parte la vostra campagna di email marketing. È ovvio che se voi fate tutta una serie di mail dove dici compra, 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 le persone si sono innervosite ancora prima di arrivare e invece di arrivare poi nel vostro hotel tutti belli contenti arrivano semplicemente che incazzati. E questo noi non lo vogliamo, giusto? Non vogliamo beccarci una bella recensione negativa ancora prima che il cliente sia arrivato in struttura oppure che metta le nostre email nello spam. Assolutamente no. Quindi noi andremo a combinare il content marketing, quindi creiamo dei contenuti di valore per loro, ma allo stesso tempo andremo a sfruttare questi email per fare upsell e cross-sell. Quindi che cosa andiamo a dire a questi clienti? Vi ho parlato del content marketing e quindi noi possiamo, come dicevo, descrivere quelli che sono i nostri posti perché magari le persone vogliono visitare i luoghi che ci circondano senza stare all'interno dei circuiti turistici. Quindi possiamo dare loro delle chicche e quindi le persone sono spinte poi ad aprire le nostre email. Iniziano dalla prima, iniziano dalla seconda e poi continuano aprendo anche quelle che sono le nostre email di offerta. Ma il punto è come facciamo upsell e cross-sell se noi non conosciamo i nostri clienti? Bene, nel momento in cui noi sappiamo che i nostri clienti viaggiano in treno oppure in aereo, magari hanno bisogno di una navetta. Però ad esempio quando ero in hotel conoscevo molto bene i miei clienti, sì viaggiavo in aereo, ma al della navetta non ne volevano manco sentire parlare perché la mia tipologia di cliente tipo arrivava in aeroporto e automaticamente aveva già prenotato e preso nel pacchetto anche la macchina a noleggio. Quindi quello che era interessato sentirsi dire era quali servizi io gli offrissi per tenere sicuro poi quest'auto perché automaticamente quello che loro chiedevano era poi c'è il parcheggio, non c'è? Perché poi avevano ovviamente questa esigenza. Nel momento in cui io scrivo delle email che sono per loro di interesse e quindi vanno a rispondere alle loro domande, ve ne capite bene che oggi, domani, dopodomani i tassi di apertura delle vostre email aumentano sempre di più e quindi in conseguenza poi diventa questa campagna sempre più efficace. Allo stesso tempo però voi potete sfruttare compleanni, anniversari, far trovare in camera ad esempio la classica bottiglia di vino, non per forza deve essere omaggio ma in questo caso potete fare un cross sale e vendere questa bottiglia di vino, l'aperitivo, potete vendere una cena al vostro ristorante, potete fare davvero di tutto. Ma allo stesso tempo, come dicevo prima, si può fare anche upsell. Voi che cosa fate? Prendete, magari ha prenotato una camera matrimoniale, voi gli offrite la camera deluxe. Con soli tot euro al giorno tu ti puoi prendere questo tipo di camera e avere questo tipo di benefici. E perché lo dovete fare? In questo caso voi vi liberate delle camere che hanno un costo magari più accessibile e che potete vendere molto più facilmente. Allo stesso tempo la camera deluxe, o che sia, l'avete comunque coperta senza fare chissà quali grandi sconti. Però intanto è anche quella riservata. Noi possiamo sfruttare anche l'email marketing per andare a coprire delle esigenze dell'ultimo minuto. Quindi ad esempio nel momento in cui ci ritroviamo con la struttura che non è completamente piena, potremmo provare a vendere l'early check-in oppure un late check-out. Quello lo possiamo fare anche all'ultimo minuto, avendo già un'email preimpostata, dove poi portiamo le persone magari anche a pagare direttamente con un semplice bottone. Perché ovviamente il tutto deve essere il più automatizzato possibile. Quindi capite bene che solo nella fase di pre-stay, ancora prima che il cliente sia arrivato in struttura, voi con l'email marketing potete fare tantissimo. Calcolate che normalmente l'email marketing genera 36 dollari di ritorno sull'investimento per ogni dollaro speso. Quindi capite bene quanto questa forma di marketing sia davvero molto potente e non mi stancherò mai di dirvelo. Se volete scoprire come implementare il mail marketing all'interno della vostra struttura, potete chiedere una consulenza gratuita e conoscitiva con me scrivendomi all'indirizzo info.chioccio.alessiaboconfuso.com. In questo modo vedremo come il metodo ideato da me, Social Media Hotel, possa integrarsi all'interno della vostra struttura e aumentare i vostri profitti. Come sempre spero che questo video vi sia stato d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti e io vi aspetto nel prossimo video. Un besos!